La teoria del Big Bang. Ecco, la teoria del Big Bang, da chi proviene, è stata proposta e inizialmente la cosmologia da un belga, George Lamaetre, nel 1927, che suggerì che l'universo avesse avuto un'origine a un singolo punto di densità infinita, una sorta di atomo primordiale. Ecco, è lui che ha iniziato. Poi, George Gamow, negli anni 40, ha sviluppato ulteriori idee associando la previsione della radiazione cosmica di fondo. Ecco, Lamaetre, chi è questo George Lamaetre? Era un prete cattolico, oltre che un brillante cosmologo e matematico. Dato in Belgio, fu ordinato sacerdote nel 1923, ma la sua carriera scientifica non fu in alcun modo influenzata negativamente dalla sua vocazione religiosa. Anzi, si riuscì a conciliare la sua fede con la scienza in modo piuttosto originale. Ecco, quindi Lamaetre ha formulato nel 1927 l'idea dell'universo in espansione, che poi ha fatto sì di diventare poi la teoria del Big Bang. La sua proposta iniziale, che parlava di un atomo primordiale che esplodeva e dava origine all'universo, fu l'innovazione rispetto alle teorie scientifiche dominanti dell'epoca. In termine, Big Bang fu coniato più tardi da Sir Freud Only, che in realtà l'aveva, diciamo, molto perseguitato Lamaetre. Non trovò subito dei sostenitori su questa teoria, anzi, all'inizio, nei primi anni, anche lo stesso Albert Einstein non aveva accettato inizialmente questa teoria, perché la credeva troppo creazionista, cioè che desse troppo importanza alla creazione, anche perché all'inizio, in quel periodo lì, si credeva in un universo che fosse eterno, cioè un universo fondamentalmente materiale eterno. Invece, ponendo questa questione dell'universo in espansione, e quindi un universo che ha un inizio e una fine, allora questo fa sì che l'universo non è più eterno, ma è una materia che ha un inizio e poi viene distrutta. E allora fa pensare proprio a un disegno divino, dove all'inizio qualcuno ha dato vita a questa realtà, che poi finirà. E poi non sappiamo, sappiamo, certo, c'è la fede che ci dice il dopo, ecco. Però senza la fede, ecco, manca gran parte della comprensione della realtà. La realtà, quindi, scientifica rimane questa, un inizio e una fine, ma chi ha dato inizio e che dopo la fine cosa accadrà, non lo sappiamo. La fede, certamente, è un creatore in un salvatore. Ecco, Giorgio Lametre, quindi, è un grande scienziato cosmologo, è anche premiato in Belgio, e Lametre è un prete, era un prete, era un sacerdote. Grazie.